Faccio cose vedo gente finalmente qui con la nostra artista pittrice a Aida e siamo finalmente alla chiusura di questa magnifica serata dopo una cena con l'attore celebrities Robert Davi. Aida però mi sorge spontanea una domanda sei devota sei fedele credi in Padre Pio in quanto questa serata è stata dedicata proprio alla San Pio Foundation quindi a Padre Pio? Certo che credo cioè è una persona stata magnifica perché c'è comunque che ci sono tanti fedeli di Padre Pio che comunque anche io è miracolata è una persona che trasmetteva qualcosa che la gente ha avuto una grande fiducia e ancora ce l'ha e si vede dalle manifestazioni nell'arte dipinto anche tantissimo sì credo è bellissima comunque è stata una bellissima serata dedicata proprio a Padre Pio. Quindi magari vedremo in un prossimo ritratto Padre Pio dipinto da Aida perché sicuramente lei sarà ispirata insomma gli artisti sono ispirati da questi santi da questi personaggi comunque molto celebri nel mondo mi auguro di vederlo presso una tua opera. Certo certo ci sarà una nuova opera ma anche credo possiamo fare anche una bella manifestazione una bella mostra d'arte dedicata proprio a Padre Pio e se siete invitati. Magari la prossima manifestazione sarà dedicata a Padre Pio seguitici perché faccio cose vedo gente non vi abbandona mai un saluto da da me e da Aida faccio cose e vedo gente ciao grazie ciao